Sono Martina Corgnati, sono la direttrice artistica dell'IGAV, l'Istituto Garuzzo per le Arti Visive, che ha realizzato questa mostra di China New Design insieme all'OIUCCA, un'associazione artistica e di design di Pechino, con cui per la prima volta l'IGAV collabora a un progetto così importante. È un evento per Torino, è un evento per l'Italia, io penso, in quanto è la prima volta che il design cinese si affaccia sul palcoscenico del grande design italiano. L'Italia è il paese del design, abbiamo avuto in un certo senso il coraggio, ma anche l'idea di portare novità, novità culturali forti, in un paese dove il design è l'eccellenza da almeno 30-40 anni. La mostra è stata allestita da un team di studenti dell'Accademia Albertina, l'Accademia di Torino, guidati da Elisabetta Agiani. Io stessa sono docente dell'Accademia Albertina e quindi sono particolarmente orgogliosa e contenta che questo contatto, che questa collaborazione possa aver avuto luogo. è un allestimento molto semplice che ripropone l'idea un po' del trasporto, del packaging, della provvisorietà. Sono pallet di quelli che si usano normalmente nelle dugane, negli scali, nei luoghi industriali, semplicemente allestiti in modo da costruire delle piattaforme di visibilità per questi oggetti. Che oggetti sono? Cosa è arrivato dalla Cina? Cosa si intende in Cina per design? Beh, si intende molto di più rispetto a quello che oggi intendiamo noi. Ci sono i mobili, quindi c'è l'oggetto da redo in senso stretto, ci sono i soprammobili e gli oggetti funzionali nella casa, come per esempio un set di tazzine da tè e da caffè e di piccoli accessori per la tavola che trovo molto godibili e molto originali e interessanti. Poi c'è tutta la grafica, che per noi è un altro settore, ed è un settore in cui i cinesi eccellono, sia dal punto di vista pubblicitario e promozionale, sia dal punto di vista della grafica editoriale, dove abbiamo in mostra, sia qui sia a Milano, dei prodotti veramente godibili e di grande significato estetico, piuttosto diversi anche da quelli che oggi noi realizziamo e consideriamo grafica. Poi c'è il fashion, che è un fashion buffo, è un fashion da una parte molto giovanile, molto semplice, fatto con materiali poveri, facili, riciclabili, in alcuni casi quasi citazioni di modelli antichi, di modelli addirittura della memory o che riecheggiano la vecchia Cina popolare, che sono divertenti per certi versi, ma che sono certamente delle proposte low cost adatte a un pubblico sterminato come il pubblico cinese, molto portabili, molto semplici, molto indossabili, molto diversi appunto da quell'idea del fashion che è stata coltivata tanto in Italia a partire dagli anni 80. Poi abbiamo una serie di altre cose, soprattutto video, e devo dire che nel video i cinesi non fanno, non sembrano fare una grande differenza fra il video promozionale, il video come supporto all'opera e il video opera, quindi di nuovo a intrecciare in un percorso fecondo e interessante, arte in senso forte e design. Cosa che accadeva anche da noi. Accadeva negli anni 50, quando prima che esistesse la parola design e il concetto di design, in ambienti prossimi a quello che era il MAC, il Movimento Arte Concreta, dove militavano ingegneri come Nervi, teorici dell'arte, artisti come Gillo Dorfles, pittori come Prampolini, e veri e propri futuri designer come Bruno Munari, per dire, tutti insieme, si è creata un'idea di officina, un'idea di laboratorio e di cantiere, dal quale poi è scaturito, fra l'altro, il Made in Italy e il design italiano. L'atmosfera, l'impressione che si ha, secondo me, entrando a visitare questa mostra, un'idea di creatività, di fermento, di apertura, possibilità nuove, degna di un grande popolo che si affaccia oggi da leader sul palcoscenico della grande storia.